La crescita dell'economia è uno dei fattori chiave nello spiegare i rendimenti dell'asset class, soprattutto rischiose. È infatti ovvio che in media, in un'economia che cresce, le società sono in grado di generare utili e flussi di cassa positivi che vanno, uno, a rimunerare gli azionisti e, due, ad accrescere il valore di questa società. Nel lungo termine possiamo quindi assumere che sia il trend dei fondamentali a guidare le azioni, mentre nel breve invece dobbiamo stare più attenti ai cambiamenti di sentiment e, per sentiment, intendiamo le prospettive che gli investitori hanno della crescita globale. Nell'ultimo mese e mezzo la narrativa principale sui mercati azionari è stata di un rimbalzo della crescita globale. In realtà quello che noi abbiamo visto è stata una stabilizzazione del settore manufatturiero nell'eurozona e dei dati sulla Cina leggermente più stabili e in positivo rispetto ai mesi precedenti. Questi sono due temi molto importanti ma decisamente non esotivi del quadro economico globale. Proprio all'inizio dicembre alcuni numeri sul settore manufatturiero americano hanno dato segnali ancora una volta discordanti. Rimane quindi molto difficile capire bene definire lo stadio nel ciclo economico, dell'economia stella e strisce. È in quest'ottica di un'incertezza sulle prospettive nel breve termine dell'economia mondiale che va letta la recente svolta in senso accomodante delle principali banche centrali. Questo ha permesso agli sti nazionali di continuare a registrare performance positive nelle ultime settimane e abbiamo notato un certo ritorno dell'appetito al rischio da parte degli investitori. Per il momento noi preferiamo non alterare il livello di rischiosità delle nostre linee concentrandoci quindi sui fondamentali economici che saranno le linee guide della nostra asset allocation strategica per il 2020, la quale vi sarà presentata nell'inizio dell'anno prossimo. Nell'ultimo mese la maggior parte degli investitori in Moneyfarm avranno ricevuto notizie del ribianciamento tecnico deliberato dal comitato investimenti. Il servizio di gestione patrimoniale Moneyfarm non solo offre quindi la selezione di una strategia più adatta al profilo di investitore ma anche l'implementazione tramite gli strumenti più edone disponibili sul mercato. Il team di asset allocation monitora costantemente l'offerta di ETF disponibile su Borsa Italiana e seleziona di periodo in periodo gli strumenti più efficaci nell'implementare la decisione di asset allocation. Il costo è sicuramente uno dei parametri fondamentali ma rientrano anche altri giudizi circa la liquidità del sottostante, la liquidità dell'ETF e quindi la capacità di scambiare in maniera efficace lo strumento sui mercati regolamentati. Quando questi costi di sostituzione sono surclassati dai benefici di un nuovo ETF procediamo con un ribilanciamento tecnico. Il comitato investimenti ha individuato questa opportunità per la maggior parte delle linee Monifar nell'ultimo ribilanciamento tecnico. Sui sette criteri che utilizziamo nella selezione degli ETF il tema dei costi è stato preponderante questa volta e grazie ai nuovi strumenti inserti in portafoglio il term medio delle linee si è ridotto del 20%. L'industria dell'ETF è in continua evoluzione, abbiamo visto negli ultimi tre anni una moltiplicazione degli strumenti disponibili sul mercato e come Monifar è la nostra responsabilità continuare ad aggiornare le nostre linee affinché riflettano questa rinnovata gamma offrendo quindi agli investitori un costo il più basso possibile e un'implementazione più efficiente possibile. Per qualsiasi dubbio circa i ribilanciamenti tecnici effettuati nel mese scorso o sull'asset location strategica per l'anno 21 non esitate a rivolgervi al vostro consulente di riferimento. Grazie a tutti.